Celebrata anche ad Adrano la giornata mondiale del turismo indetta dall'ONU con una e due giorni intense di attività coordinate dalla Proloco di Adrano e dal presidente Cavalernico Lomoschitta che si sono attivati per accogliere ieri in città un pullman di turisti provenienti dal Ragusano esattamente da Scicli, Modica e Ispica, tutti accolti e guidati degnamente ad Adrano. La seconda giornata si è svolta invece oggi con una escursione alla Pineta di una scolaresca del primo circolo didattico Sante Giuffrida di Adrano e altri. Iniziativa è stata diretta dal dottore forestale Adanita, Salvatore Vinci Guerra, che ha illustrato agli alunni il ciclo della vita delle piante che arricchiscono i nostri boschi. Si è trattata di una salutare passeggiata per tutti i partecipanti alla scoperta di luoghi incantati nel cuore del territorio etneo, accompagnati dalla passione e dall'amore per i boschi, dal dottore Vinci Guerra. Soddisfatto dell'iniziativa il presidente della Proloco, Moschitta, che in una nota scrive Un particolare ringraziamento agli uomini della regione siciliana e della forestale che ci hanno assistito lungo l'itinerario. Come si vede, aggiunge Moschitta, la Proloco è l'unica organizzazione locale abilitata per legge all'accoglienza turistica, ma che è purtroppo inesistente per altri che parlano di turismo.